C'è sino ve ne prego le parole, parlino le opere. Purtroppo siamo ricchi di parole e vuoti di opere, e così siamo maledetti dal Signore, perché Egli maledì il fico, in cui non trovò frutto, ma solo foglie. La Chiesa propone questo brano, tratto dai discorsi di Sant'Antonio da Padova, nell'ufficio delle letture del 13 giugno, memoria liturgica di questo dottore della Chiesa, vissuto a cavallo del XII e XIII secolo. Una figura nei cui confronti in tutto il mondo è ampiamente diffusa la devozione. Entrò nell'ordine dei frati minori da poco fondato per attendere la diffusione della fede tra le popolazioni dell'Africa, ma esercitò il ministero della predicazione in Italia e in Francia, attirando molti alla fede. Scrisse sermoni imbevuti di finezza e stile, e su mandato di San Francesco insegnò teologia ai suoi confratelli, finché ad appena 36 anni morì. La devozione per Sant'Antonio è particolarmente sentita anche nella parrocchia di San Francesco stigmatizzato in Saione, ad Arezzo, che lo ha come compatrono. Agli inizi del Novecento il quartiere era in espansione e la mancanza di una chiesa parrocchiale si faceva sentire. I frati minori, che dal dicembre del 1900 avevano aperto lì un ospizio, fecero pressioni per avere un luogo di culto. Così nel 1926 si decise di creare una nuova parrocchia, la prima in città, fuori dalle mura. La prima pietra dell'edificio proveniente dal santuario di Laverna fu posta nel 1927, ma fino a quando non venne terminata la sede parrocchiale provvisoria fu la vicina chiesetta di Sant'Antonio Abate, allora di proprietà della famiglia Centeni Romani. Una struttura frequentata nel 1214 anche da San Francesco. Il poverello d'Assisi fu ospitato proprio dalla popolazione della zona nel suo soggiorno aretino, ed è da qui che, secondo le fonti francescane, scacciò i demoni che infestavano la città. Il nuovo plesso religioso in stile neogotico, progettato da padre Raffaello Franci, fu eletto grazie al contributo economico della popolazione e venne consacrato il 4 dicembre del 1932. Nel 1940 lo scultore fiorentino Umberto Bartoli eseguì per la facciata un grande fregio di terracotta, riportante San Francesco che benedice la città di Arezzo e alcune scene della vita di Sant'Antonio da Padova.